La Casa dei Diritti scende in campo contro il progetto di Eolicov Shore Molise presentato dalla società Maverick SRL e che vede scadere tra qualche giorno i termini per quanto riguarda le osservazioni a questa proposta di insediamento che riguarda l'intera costa molisana. L'avvocato Laura Venitelli che rappresenta l'associazione Casa dei Diritti delle Persone oltre a promuovere le osservazioni su questa procedura ha lanciato la nascita di un comitato civico al quale chiede di aderire e invoca la partecipazione di coloro che vogliono sposare questa causa per tutelare soprattutto la pesca e il comparto turistico.